20.000 abruzzesi hanno già ricevuto la terza dose del vaccino anti-covid. Si tratta di soggetti fragili e ultraottantenni, per cui in molti casi è necessaria la somministrazione a domicilio, rallentando lo scorrimento della fila. Entra nel vivo la terza fase dell'immunizzazione di massa, che in Abruzzo avviene esclusivamente con il vaccino Pfizer. Moderna infatti non ha ancora ottenuto le autorizzazioni necessarie, ma è il via libera da parte delle organizzazioni mediche e atteso nei prossimi giorni. In totale oltre un milione di abruzzesi hanno ricevuto la prima dose e di questi circa 44.000 sono in attesa del richiamo. Ma se l'80% della popolazione è stata già immunizzata, vi è anche una sacca di resistenza. 185.000 persone hanno ignorato l'appello delle istituzioni a vaccinarsi, sono circa il 15% di coloro che avendo più di 12 anni d'età hanno facoltà di aderire alla campagna. Dubbiosi, scettici, malfidati o ribelli ad un'obbligatorietà velata. In Italia infatti, seppur quella di vaccinarsi rimane una libera scelta, il Green Pass è per così dire un sollecito coatto. Il 15 ottobre, data in cui la certificazione verde è diventata obbligatoria per accedere a qualunque luogo pubblico al chiuso, che sia da fruitore o da lavoratore, si è registrato il record dei prime dosi in Abruzzo, 3.122. Per molti il timore di effetti collaterali del farmaco è stato così superato da quello del rimanere fuori dalla vita sociale e produttiva. Il vaccino comunque blocca lo sviluppo della malattia, scongiurando sintomi gravi, ricoveri e decessi, ma come spiegano da mesi gli esperti, non impedisce di contagiarsi seppur riduce la trasmissione virale. Insomma, vaccini o no, il virus circola ancora e a farne le spese sarebbero soprattutto i Novax. Negli ultimi giorni, colpevole anche l'autunno con l'abbassarsi delle temperature, i contagi sono tornati ad aumentare. In Abruzzo la scorsa settimana si è registrato il più 22% di incidenza del virus rispetto alla settimana precedente e la crescita più consistente degli ultimi mesi. Nella nostra regione i positivi accertati sono attualmente oltre 1.500. L'Abruzzo, in base all'ultimo monitoraggio della cabina di regia ministeriale, insieme a Campania, Friuli Venezia Giulia e Piemonte è tra le quattro regioni italiane a rischio moderato.